Avete fatto arrestare voi il mio infiltrato. Elliot Stubler è tornato. Chi cavolo è lui? L'unico uomo che può portarci fino al capo della Costa Organization. Sotto copertura. L'hanno rubato alla nostra famiglia. Dicono che la morte di un uomo sia il pane di un altro. In una New York in fiamme. Che cosa ci aspettiamo? Armi di tipo militare. Quindi faranno una guerra. Quante altre sparatorie in pieno giorno in giro per me? Law and Order Organized Crime. Seconda stagione. Da venerdì 9 giugno dopo Chicago PD.